Atenzione No, aspetta, eccoli, vai avanti, vai avanti. Avanti dentro la pino. Dai, 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 dai. Allora, adesso. Lì, lì è un casino che dà l'occhio. Vogliono salire tutti subito, ovviamente. Vieni, vieni. Stiamo imbottigliati bene. Vieni, vieni. Porta, ce la facciamo. Vai, vai. Ale, ale. Vai, Monica. Ale, ale. Emanuele, da Italia. So, we walking well on the bike. After on the run I just push and he can't go. So, yeah, yeah, yeah. I let him go fast. And when he's taught to go down, I push. And what about the rope? First time here? Yeah, yeah, yeah. First time in Sardegna, it's a really, really amazing island and really, really good for a franchise dance, so I'm a bit disappointed in not doing the 17.2 because it's amazing race, but maybe next year I'm happy to win. Maybe next year. Yeah, 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 sure, but next year it's Olympics. Yeah, 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 so that's why I'm enjoying staying in this family. Thank you very much. Gara femenile, che sia interessante, vi viene l'arrivo perché avevamo due concorrente appagliate. Complimenti per la parola sulla gara che ho fatto fare una gara di genere in casa dietro un campione. di casa. E non sono più accogliati per crescere un campione. Non mi aspettavo il 24, ci sono 8, 2 mesi, per una cosa di mille. La gara femenile, la gara femenile, la gara femenile. No, strabissima gara. Ho avuto un campione di bici di ratissimo. Quindi campione regionale, fai due davanti, c'è secondo la gara, in genere, tu quanti anni hai adesso? 18. Quindi hai tutta la strada davanti. Sì, speniamo. Qualche parente là col ciclista o sono in casa? No, vicini di casa. Eh, signorissimi, non c'è tutta. Ti segno a qualcosa, avete modo di comportarmi, di parlare, questo tempo che... ...quad di niente. ...quad di niente. Distante, prese. ...quad di niente, fai con camera che sono tutti freddi. Bene. Guardate la niente. Alza, alza. Guardate le tecniche. ...quad di niente. E questo ho sentito perché mi hanno avuto a trovare il livello. E questo non schiede l'acqua, e questo non è per... ...la manifestanza. Guardate che bella corazione. Che sì so, bella più tanto, fino a che si diverte la vittoria più forte di... ...è, sono aperto il mezzo semplice. ...perdica, sono pazza. ...perdica, sono pazza. Grazie